Amelia Mascioli, direttore tecnico del centro sportivo M2, decimo Memorial Don Guglielmo. Si vede chiaramente, si sente l'atmosfera elettrica, entusiasmante, anche questa edizione ha registrato il pienone. Decimo evento, sono passati dieci anni dal primo Memorial, sembra ieri in realtà, e negli anni questo evento ha acquisito sempre più spessore, 99% di società che vengono da fuori regione, e che ci scelgono, evidentemente lavoriamo bene, la nostra proposta sportiva sul prodotto dell'evento piace, per cui siamo davvero tanto soddisfatti, inutile negare che c'è un lavoro di squadra importante, e sono orgogliosa davvero di avere uno staff di collaboratori all'altezza della situazione, anzi forse anche sopra le aspettative. È ormai una macchina che funziona, siamo soddisfatti. Oltre al nuoto è anche l'occasione di promuovere il territorio con alcuni prodotti tipici, il Moliso ovviamente ne è pieno. Esatto, noi cerchiamo di coniugare la proposta sportiva abbinandola al turismo sportivo, chiaramente lo sappiamo un po' tutti, purtroppo questa cosa c'è di sfavore, a Campobasso ci devi venire, non ci puoi passare così occasionalmente, e quindi l'evento sportivo diventa per noi traino e veicolo per far sì che gli atleti, le famiglie, gli accompagnatori possano godere l'appuntamento sportivo coniugandolo chiaramente alla scoperta del territorio. All'interno della hall del nostro impianto, infatti noi usualmente ospitiamo dei produttori locali che propongono i loro prodotti e che chiaramente in qualche modo fanno passare un po' la genuinità del nostro territorio. E chiaramente oltre ai visitatori che vengono per la gara possono approfittare per scoprire un po' anche quello che di bello riserva la nostra terra. Quindi è un'occasione per unire lo sport e lo sport di qualità, perché noi siamo sul calendario nazionale, ormai è un appuntamento all'occhiello del nostro calendario nazionale, alla scoperta del Molise che esiste e esiste come.